Più poteri al giudice di pace che deciderà su tutto il contenzioso condominiale dalle liti ai millesimi fino alla revoca dell'amministratore ma avrà pieni poteri anche sul risarcimento dei sinistri automobilistici con il limite che passa da 20.000 a 50.000 euro. Tra le altre competenze che il decreto legislativo in attesa dell'approvazione definitiva prevede ci sono quella dei pignoramenti immobiliari che passa dai giudici di pace ed anche tutte le controverse sui cosiddetti diritti reali dalle liti sui muri e piantagioni a quelle su luce e vedute fino alle acque. Queste le principali funzioni che avranno questi magistrati onorari che doneranno in carica otto anni e avranno una indennità fissa di 16.000 euro lordi più una parte variabile in base agli obiettivi raggiunti. Si punta a liberare i tribunali ordinari di contenziosi ma il rischio è che materie rilevanti possano finire tra le mani di persone che hanno un ruolo onorario quindi svolgono altre attività e non sono giudici ordinari dei tribunali. Gli liti condominiali sono una caratteristica tutta italiana quindi tantissimi contenziosi arriveranno davanti ai giudici di pace e sicuramente con una macchina della giustizia già abbastanza burocratizzata abbastanza ingessata sarà difficile far fronte a tutti i contenziosi che arriveranno. I giudici di pace ce ne sono tanti bravi, ce ne sono tanti posticcioni ma soprattutto non hanno un organico, non hanno una struttura per poter far fronte secondo me a tutto questo genere di contenziosi. Abbiamo già tanti problemi con le competenze che hanno avuto fino ad oggi ho veramente paura per quanto riguarda i cittadini e la sede di giustizia che c'è in questo paese che non si riesca a far fronte a quello che accadrà.